Sindaco di Scanno, oggi siamo a Roma per festeggiare i 100 anni del parco. Quanto è importante per un borgo come Scanno essere all'interno dei circuiti del Parco Nazionale e come la popolazione del tuo paese, del tuo borgo, coinvive con la fauna selvatica che immagino si faccia sentire anche a Scanno? Per il nostro borgo stare all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo è di straordinaria importanza perché costituisce non solo un brand che qualifica e identifica anche il nostro paese in un circuito turistico ambientale ma soprattutto è un po' una filosofia di vita. Abbiamo assistito oggi all'inaugurazione di questo centenario dove in qualche modo è stata ripercorsa la storia, l'evoluzione anche di tutto quanto il parco e di come il parco ha influito anche all'interno delle comunità. Un'economia importante è quella del turismo che se legata all'ambiente può raggiungere dei livelli di assoluto prestigio e pregio. Le comunità convivono con il parco a volte anche un po' a fatica perché soprattutto poi quando c'è un eccessivo incedere anche della fauna selvatica si deve trovare un pochettino un limite di convivenza però dobbiamo dire che c'è un'evoluzione culturale tale che il sistema si sta consolidando.